Il drammatico incidente avvenuto ieri sera alla stazione centrale è un esempio di ciò che gli animalisti gridano da anni a tutti Gli animali non devono vivere in cattività Ora verranno riportati nel loro abitato naturale dove potranno vivere la vita libera che evidentemente desiderano Mi date una mano Ma sveglio, ma sveglio! Faccia qualcosa! Oh, cavolo!